salve a tutti oggi siamo nella rosata un posto molto bello distorante pizzeria e di e gestito da frango il grande e io sto assaggiando la pasta alle vongole le vongole già le ho prese come qua sono è buonissima bene fatta bene il condimento è buono vabbè è passato alle cozze ci ho le cozze e i spaghetti